possono sembrarvi renne ma sono cervi nobili cervus e lapus perché sono i loro parenti bambi stai con stai con il tuo gemello dovresti stare con felin comunque questi animali come il daino anche se sono più grandi appartengono all'ordine degli arti dattili del sotto ordine degli illuminanti e della famiglia dei cervi di guardate bambi sta bevendo l'acqua è un termostato questo ronno di ronno è diventato amico di bambi questa primavera state combattendo per una femmina e bambi a ronno attenziano fatemi mangiare dal kraken amici cervi questi animali sono